Il Cell Meter Professional Kit è un sistema con tre lastre termografiche riutilizzabili, che incorporano un metro per misurare la circonferenza della coscia in fase di trattamenti dimagranti. Il kit viene fornito con un programma per il computer che permette di creare un archivio elettronico delle analisi fatte per ogni cliente.